Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Il canale senza colore né di maglia né di bandiera è dove l'unica fede calcistica è quella verso il calcio stesso. In questo video voglio parlare un pochino con voi di Milan e soprattutto di una problematica che è stata riportata o meglio portata in auge negli ultimi giorni, vale a dire le cattive prestazioni di Charles de Queteler in maglia rossonera o quantomeno non cattive prestazioni, però diciamo che sono prestazioni che non giustificano la spesa e tutta la tattativa lunga e laboriosa che i rossoneri hanno portato avanti con il Bruges. Nel video di presentazione di De Queteler ve l'ho descritto un pochino, anche perché secondo me è la mia visione, che per il Milan potrebbe diventare potenzialmente il nuovo Kakà, quindi un giocatore molto importante in fase offensiva in quanto ha ottimi piedi, ottima visione di gioco, ha velocità di pensiero e anche a livello aerobico, un giocatore dal grande fisico e soprattutto che è un 2001. Quindi voglio fare questo video per chiarire un pochino la situazione o meglio per farvi riflettere un pochino su alcuni punti e soprattutto su alcune cose che giustificano un pochino questa sua impasse iniziale. Vi voglio ricordare che i giocatori del calibro di Zidane quando arrivò la Juventus e di Platini quando andò la Juventus hanno necessitato di tanto tempo. Zidane ci mise 6, 7, 8 mesi se non erro. Platini addirittura appena arrivò la Juventus poteva essere rispedito in Francia perché non aveva pienamente convinto i dirigenti Juventini e soprattutto sono quattro i punti sui quali mi voglio un po' concentrare. In primis contiamo l'età, è sempre un 2001, non dobbiamo assolutamente dimenticarci questo. In Italia si sa come un giocatore a certi nomi dall'estero viene e lo si incensa o meglio si pretende subito che faccia delle prestazioni che giustifichino la spesa iniziale. Ma è un errore perché un conto è dire io ti prendo un giocatore di 25-26 anni che al Manchester United ha fatto faville. Stiamo parlando di un 2001 che da anni che era titolare al Club Rouge che comunque è membro della Nazionale A del Belgio e quindi non stiamo parlando di uno scarpone. È un giocatore che sicuramente deve crescere ma che comunque ha l'età a suo favore. Non dimentichiamoci questo. Ai giovani deve essere dato il diritto di sbagliare perché non è il prezzo d'acquisto che tra l'altro poi nel quale il giocatore non c'entra neanche nulla perché il prezzo lo fanno i club. Il giocatore è esterno. Non è il prezzo che indica il tasso di rendimento futuro di un giocatore perché altrimenti tanti giocatori che sono stati strapagati si sono rivelati molto più pippe diciamo così di De Keteler che è vero non ha numeri a suo favore perché comunque in stagione 14 presenze tra campionato e coppia è soltanto un assist. Il secondo punto è la lingua. Voi direte e vabbè ma in un calcio globale sì, lo spogliatoio del Milan come lo spogliatoio di tutti i grandi club è molto multinazionale ma comunque viviamo in Italia e imparare una lingua, imparare a comunicare in una certa lingua ti rende partecipe, ti rende maggiormente coinvolto in una squadra, in dinamiche di spogliatoio. Perché se magari De Keteler sa parlare soltanto il francese e il fiammingo, faccio un esempio stupido, e un Calabria parla soltanto italiano e tedesco, come comunica ogni due, che magari nessuno parla inglese, ovviamente è un esempio limite. Se magari De Keteler ancora non sa bene italiano, ma Pioli si spiega in italiano, cerca di farsi capire, se non vi è la lingua che accomuna i messaggi vanno persi e voglio dire eh lo dico al capitano che parla il belga. No. Perché come se voi, non lo so, leggete una barazzelletta invece che sentirvela raccontata. La leggi, non ti dice nulla, te la racconta uno col senso dell'umorismo e ti fa sbellicare da ridere. Quindi questo è molto importante. Vi ricordate la scena di Conte Krasic, la prima annata di Conte alla Juventus? Ce l'ho stampata in fronte. Conte si incavola verso Krasic, dice delle cose, poi si gira Krasic verso la panchina e fa questa faccia. Come dire? E che ha detto? Quindi imparare una lingua non è così un punto secondario. Terzo punto, il calcio diverso. Questo viene da sé. Il calcio italiano è più tattico, meno spazi. Devi puntare su altre tue caratteristiche. Se la tua caratteristica magari del dribbling non è particolarmente accentuata, devi lavorarci. Se la velocità di esecuzione non è particolarmente alta, devi lavorarci. Questo è il discorso. E quindi anche i tempi di gioco devono essere comunque cambiati, devono essere gestiti in modo diverso. quarto punto, la posizione in campo. Allora, in parte De Ketelaer soffre un pochino della sindrome di Bernardeschi, cioè non lui, gliel'hanno un po' pioppata. Vuoi dire quello che sa fare tante cose, ma nessuno al 100%. Puoi giocare al 90% in ogni posizione? In Belgio. Ma in Italia non è così. Quindi deve essere cucito addosso un ruolo in campo, una posizione in campo. Perché lui ha fatto la mezzala, ha fatto addirittura l'esterno a tutta fascia in un 3-4-3, ha fatto il trequartista, ha fatto la seconda punta, ha fatto la prima punta in un modulo a due punte, ha fatto la prima punta, ha fatto la seconda punta diciamo di sostegno, ha giocato sulle fasce da centrocampista centrale, ragazzi. E uno, è il classico giocatore che, richiamando la serie che sto portando su Football Manager, è il classico giocatore che avrebbe 6-7 pallini verdi sulla sua scheda. In Italia non è così. Ti devi specializzare. E nell'ultima annate al Bruges, vi dico anche un'altra cosa. La posizione dove ha meno giocato è quella di trequartista. Quindi lo si vuole costruire come trequartista? Allora si dia il tempo. Lo si vuole costruire come ala? Che lavori sul lavoro di ala. O magari un giocatore che nella trequarti può coprire tutti i tre ruoli? Che si lavori in quel senso. E' ovvio che lui in testa, non dico che abbia confusione, però magari giocava in determinate posizioni in Belgio e gli si diceva sei libero, parti da quella posizione e poi fa andare la fantasia. E qui no. Qui è un po' più inquadrato. E quindi anche lui deve imparare questi meccanismi. Non scordiamola sta cosa. Ovviamente deve lavorare sodo. Tanto sodo. Perché ovviamente se poi il mister mette il suo, se tutti mettono il loro, ma poi il giocatore che è duro di testa, poco si risolve. E De Keteler è il primo che deve lavorare su se stesso. Ma comunque si devono creare le condizioni perché De Keteler rende al massimo. E se deve dare il tempo, più o meno vuole inquadrare come trequartista con il Bremdias di turno, con Messias o con chi per esso? Allora specializziamolo in quel ruolo e deve essere dato il tempo di imparare tutte le caratteristiche, i punti precedenti. Quindi soprattutto la lingua e imparare i tempi di gioco in un calcio. Ovviamente imparare dei movimenti che devono essere un po' standardizzati ma allo stesso tempo gli si deve dare libertà di azione in una certa zona di campo. Questo è quanto. Stessa cosa che secondo me coinvolge un pochino anche Adli, ma questa è un'altra cosa. Perché anche Adli non è il giocatore. Mi raccomando fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate di CDK90. Fatemi sapere cosa ne pensate di Fosemianisti e non e scrivetemi nei commenti la vostra impressione che io le leggerò tutte quante. Vi mando un abbraccione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!